La canzone incontra Vapo Elias, buongiorno! Ciao, ciao a tutti! Allora caro, siamo nella settimana Santa di Sanremo del Festival 2024, raccontami un pochettino che esperienza è, che aria si respira? Allora, io mi sto divertendo comunque, sono arrivato qua da un giorno, comunque è bello stare in mezzo alla gente, vedere artisti che comunque vogliono emergere un po' come me, bello, bello, divertente. Parliamo di musica, parliamo della tua, raccontami un pochettino come è nato il progetto Sogni. Allora, Sogni è partito tutto dal ritornello e poi da lì ho sviluppato la traccia, perché all'inizio non mi convinceva tanto. Praticamente questa canzone parla di tutti i pensieri, di ragionamenti che faccio nel periodo in cui passo, tra tutto i musici. Perfetto, le tue influenze musicali quali sono state, visto che sei giovanissimo? Nessuno, non mi, cerco di diversificarmi, se no sarei buona gli altri. Perfetto, c'è qualche artista con cui vorresti collaborare, fare qualche duetto, anche, non lo so, magari nei big di Sanremo di quest'anno? Se possibile tutto. Perfetto, progetti per questo 2024? Tirare più musica possibile, farmi ascoltare il più possibile e fare il culo agli altri. Ok, ti possiamo vedere su quali sui social? Vapo Elias su Instagram, Spoti, TikTok, YouTube e poi il mio music e Amazon. Perfetto, allora noi ti facciamo un grandissimo bocca al lupo, grazie mille per essere stato con noi e buon Sanremo. Anche a voi. Ciao. Ciao.